La guardia di finanza di Ancona ha sequestrato 16.300 grammi di eroina al porto. La sostanza stupefacente era confezionata in 14 panetti nascosti all'interno di un doppio fondo in metallo ricavato sotto il sedile di un furgone sbarcato dalla motonave proveniente dalla città di Durazzo in Albania. L'operazione antidroga è stata condotta anche grazie al fiuto di un pastore tedesco il quale nonostante l'abile occultamento è riuscito a segnalare al conduttore la presenza di una sostanza illegale. L'automezzo è stato sottoposto ad esame radiologico attraverso il sistema scanner in dotazione all'ufficio delle dogane. L'ingente quantitativo dello stupefacente è stato posto al sequestro così come la somma di 3 milioni e 775 mila euro ricavati dall'attività illecita rinvenuti al conducente del mezzo. Il responsabile del trasporto è un cittadino di nazionalità albanese di 37 anni senza precedenti specifici. È stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Montacuto. Dalle indagini condotte è emerso che la droga una volta messa sul mercato avrebbe fruttato un guadagno di oltre mezzo milione di euro.